Non sono io, quella che avrai, dalla tua parte, sempre con te. Dov'è Diana? L'avete chiamata? Oggi dovevamo girare la sua scena di danza. Dove volete che sia, lasciatela perdere. Ma ieri sera l'ho sentita e mi ha detto che sarebbe venuta qui, tra le tue foglie. Se avessimo dovuto fare il film con la sua storia non avremmo neanche cominciato. Io non chiedo mai niente a nessuno, non è vero. Ma infatti è proprio questo il punto, tu non chiedi mai niente a nessuno, tu sei quella perfetta. Non possiamo lasciarla sola. Bisogna fare qualcosa. Ci siamo passate tutte. Tu non mi prenderai Tu non mi prenderai Tu non mi prenderai Più Più Mi prenderai non mi prenderai 3